La propaganda è fondamentale per ottenere il consenso e per gestirlo ma quali sono i meccanismi che sfrutta la propaganda e quali canali ha usato nei momenti chiave della storia del nostro paese? Toccheremo questi punti nel webinar concentrandoci in particolare sugli anni della prima guerra mondiale e sugli anni del regime fascista quando fumetti e libri per bambini e per ragazzi diventano canale privilegiato di propaganda anche perché assumono in realtà spesso come destinatari o anche il mondo russo. Vedremo come costruire un percorso di approfondimento didattico utilizzando la produzione per l'infanzia come fonte storica. Prenderemo in esame alcuni testi significativi come il ciuffettino alla guerra, il cuore di Pinocchio o ancora il piccolo alpino e analizzeremo anche alcuni fumetti e altri materiali significativi. Vedremo inoltre come analizzare quelli che sono i meccanismi sempre attuali della propaganda come per esempio la costruzione del nemico che diventa avversario feroce e disumano oppure al contrario inetto da deridere. Se pensate che la conoscenza della propaganda di ieri possa stimolare il senso critico dei ragazzi e vaccinarli contro la propaganda di vario segno dell'oggi vi aspetto al mio webinar.